buongiorno a tutti e benvenuti nello stand di centro stile sono pietro conti general manager e che dire insomma mido è un'occasione sempre speciale di fatti quest'anno lanciamo la nostra nuova casa mido una nuova casa un nuovo stand progettato per raccontare al meglio cosa e come soprattutto lavoriamo come si può vedere abbiamo diviso le aree per linea prodotto abbiamo gli accessori e tutto ciò che la pulizia lenti dove quest'anno lanciamo un nuovo concetto per un corner all'interno del centro ottico dedicato proprio gli accessori abbiamo un'area dedicata tutto ciò che il mondo occhialeria progettato e disegnato da noi ogni modello dai reading alle montature e a tutto ciò che la protezione solare bambino e adulto un'area dedicata al mondo visual training e ipovisione settori dove stiamo andando a implementare sempre di più la nostra il nostro sviluppo prodotto e i nostri servizi per il centro ottico e la professionalità dello stesso abbiamo voluto nel nostro spazio dedicare un'area intera solo per il mondo bambino active frames che al nostro cavallo di battaglia e abbiamo massima cura di tutto ciò e andare a ricreare anche un vero e proprio laboratorio noi siamo un'azienda che è nata con tutti i prodotti tecnici relativi al laboratorio e per questo insomma è al centro il cuore del nostro del nostro spazio espositivo tra le tante novità un'attenzione particolare tutto ciò che al mondo sport dove abbiamo sviluppato una gamma di prodotti dedicata e dove nel nostro modello protezione sport certificato abbiamo lanciato a questo mido la possibilità di taglio e montaggio lenti e quindi di poter fornire al centro ottico un occhiale con le lenti oftalmiche certificate per l'impatto cosa unica nel suo genere e molto importante proprio perché teniamo a tutto il mondo delle certificazioni che dire è un'edizione veramente speciale siamo molto soddisfatti e contenti e insomma vi aspettiamo per la prossima grazie